Ma siete sicuri che il problema di Teo e Leao sia stato risolto? Sì, quello dell'indisciplina, del rapporto con il gruppo, con i compagni, con l'allenatore, di quella brutta scena fatta in visione televisiva per tutti, nell'unica partita del sabato sera. Sì, insomma, quell'episodio lì probabilmente è stato anche risolto attraverso dei passaggi, tipo le prime scuse di Teo e Hernández, abbastanza giovanili, perché praticamente ha detto che avevamo bevuto prima, non si poteva mica ribere dopo, anche dopo due minuti. Oppure la reazione di Leao, insomma, abbastanza discutibile, proprio perché gli si vuole bene, diciamo discutibile, nei confronti di Paolo Slicanio. In tutto era avvenuto con le reazioni degli opinionisti, in televisione, sui social, tutti a criticare, tutto a condannare, certo, ci mancherebbe altro, una mancanza di rispetto così, un autogol comportamentale così, da parte di due giocatori importanti, anche gratificati alla fascia di capitano, certe volte non è assolutamente ammissibile. La società ci ha messo un po' per mettere a fuoco tutto, poi alla fine ci ha pensato Furlani, che a distanza di 48 ore abbondanti, diciamo così, il caso è chiuso, a Fonseca pieni poteri, e la fiducia, la stima del club. Ora, io non voglio fare il provocatore a tutti i costi, però io dico che se pensate, cari Furlani, milanisti, Teo, Leao, Fonseca, eccetera, che il caso sia la ribellione giovanile, per cui, capito, dai si prende tutti, si taglia la torta tutti assieme, e al compleanno due che vanno da un'altra parte, no, non si vuole, quelli sono i bambini, quello non è il problema, il problema non è stato il comportamento, il problema è perché si è arrivati a quel comportamento. Mi sono spiegato? Io penso di sì. Perché si arriva a quel comportamento, e allora è vero, perché sono due maleducati, non conoscono l'importanza del gruppo, non conosco il valore, il rispetto, la maglia, i compagni, va bene, tutto vero, ma perché non conoscono il valore del gruppo all'improvviso, non rispettano la maglia all'improvviso, sono due maleducati all'improvviso? Perché c'è qualcosa che nasce prima, e che cosa nasce prima? Qualcosa di evidentemente calcistico, per questo dico parliamo di calcio, parliamo di calcio perché io di Teo Hernandez e Leao ho delle immagini molto nitide e precise del primo anno e poi dello scudetto, questi erano due fenomeni, sono comunque due fenomeni, quando sono due fenomeni? Quando fanno i giochetti lì al limite dell'area? No, quando partono, su quella corsia e non li ferma nessuno, ma per partire su quella corsia hanno bisogno che la corsia sia libera, sia aperta, sia disponibile per le loro scorribande, diciamo così, disponibile per le loro azioni, che sia anche mentalmente una cosa preparata, studiata, strategica. Se invece quella corsia è una corsia in cui ti devi preoccupare di difendere, allora, primo devi difendere, poi devi correre all'indietro, poi devi, quando si va avanti, bisogna dominare il gioco, poi, togli tutto il talento, la poesia del calcio, la generosità, l'estemporaneità, la soluzione dei microproblemi con micro decisioni, togli tutto a questi due ragazzi che hanno anche i loro difetti, e parliamoci chiaro, perché a me, Ternandels in tanti atteggiamenti, non mi è mai piaciuto, faccio proprio un discorso da boomer, è migliorato, sì, il numero di tatuaggi è migliorato da quando è al Milan, Leao, delle volte, l'ho sempre detto, è uno che tecnicamente vedi tanto ben di Dio sprecato in questo modo, Leao viene voglia di entrare in campo e di io, ma ti muovi o no? Lo so, però, poi perché nell'anno dello scudetto c'era lancio di Meignan e Leao che corre, si scambia con Ternandels e vanno a concludere? Eh? Perché poi non c'è più stato? Perché la gente si è bevuta al cervello, lui dice bisogna fare il calcio dominante. Il calcio dominante è la grande cosa, no, che dicono tutti questi i vannacci, i vannacci del calcio parlato, bisogna fare il calcio dominante, chi ha avuto più possesso palla? Noi, che ci fai con possesso palla? Chi ha avuto più giocate, più braccetti che sono entrati dentro, più terzini, chi è entrato più dentro? A dove? Chi ha giocato più dentro? Ma che è? Ma che roba è? Che la sua idea di calcio è questa? È un calcio... È un calcio... È un calcio... È stato dichiarato che è stato preso per la sua idea di calcio. Per un calcio offensivo... Questo ci dovrebbe riassumere, dovremmo finire i propri discorsi. È stato preso per la sua idea di calcio. che non lavora sulla fase difensiva. È un'idea... cioè è incompleta la frase. Ma l'idea è giusta? È un'idea sbagliata. Bravo. No, ma dico l'idea è giusta? È un'idea sbagliata. E noi dico l'idea sbagliata. Ma se poi perfino Ibrahimović resta affascinato, condizionato da questa moda, Ibrahimović non è che tradisce il Milan... Ibrahimović tradisce se stesso. Ibrahimović da giocatore è un giocatore che ha sempre pensato che comunque l'allenatore, chiunque fosse l'allenatore, da Guardiola, Murigno, Allegri, gli allenatori americani, quello dell'Ajax quando era giovane, Capello. Comunque ha interpretato l'allenatore come il tecnico, gestore, che deve consentire a tutti i giocatori della Rosa di esprimersi al meglio. Ma al meglio delle caratteristiche dei giocatori, non delle caratteristiche dell'alleatore. E in questo senso, a me Ibrahimović stupisce. Perché invece se è presentato dice Fonseca adesso farà un calcio dominante. Qui è evidente, secondo me, che c'è da parte di Ibrahimović una missione, chiamiamola così, il dominio del gioco e tutte quelle cose lì. Ed è altrettanto evidente che Fonseca mi sembra più orientato e preoccupato a fare il bravo allievo di Ibrahimović, a farsi dire bravo da Ibrahimović su certe cose, finora che per esempio preoccuparsi come sarebbe normale delle caratteristiche della squadra avversaria. Che significa calcio dominante? è che li mettiamo là. Ma se te per 90 minuti metti là l'avversario del Milan, poi tiri poco in porta. Se hai Leao e Teo Hernandez. Perché Leao hanno bisogno di avere 10 metri davanti, 20 metri davanti, come l'aria. sennò vengono soffocati questi due. E quando vengono soffocati questi due, allora tutta la gente va a guardare eh ma non cor, eh ma non rincor, eh ma non copre, eh ma non fa pressing, eh ma non sta attento alle marcature. Allora, questi che non fanno pressing non stanno attenti alle marcature. Si sa già, solo, che se giocano con l'entusiasmo di chi vede che un allenatore ti sfrutta, la squadra ha fiducia, e allora ti cercano anche nello spazio a campo aperto, allora sì, che giocano con l'entusiasmo e fanno anche meglio le cose tattiche più difensive e quelle che devono fare da bravi ragazzi. Se invece giocano per dire che bisogna fare così, 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 sono due giocatori persi. Non sono da Milan, di questo Milan. Diventano due che per un Milan si chiese delle risorse diventano problemi. Ma di chi è la responsabilità? Eh? Eh, è dell'allenatore. Ma lo dico, cioè, Fonseca è un buon allenatore, ci mancherebbe altro. Apro e chiudo una parentesi. Ho sentito dire su certi allenatori diamogli tre anni di tempo, a Fonseca non gliene vogliono dare neanche tre giornate. Quindi, sapete come la penso. Però, dico soltanto, non fatevi abbagliare da la moda, i vannacci del calcio parlato, quelli che noi siamo, venite, vabbè, eh? Non fatevi abbagliare, non fatevi condizionare, non rendetevi ridicoli. Faccio un gioco, eh? Ma avvicino qui al telefonino e vi faccio anche un gioco. Ma se tutti fanno il calcio dominante, no? Si fa preciso lo stesso calcio dominante. Per esempio, l'Italia e la Francia dominano tutte e due. Poi chi vince? Chi è più forte? Chi sfrutta meglio le caratteristiche dei singoli giocatori, no? Eh? Oppure, se tutto va bene può finire 0 a 0. Vabbè, una cosa è sicura però, il Milan non è stato attento a questo. Dal punto di vista della comunicazione, al limite, ha fatto bene. Ma se pensa il Milan, se pensano i tifosi milanisti, che il problema si sia risolto, perché il problema era che avevano bevuto la bottiglietta dall'altra parte del campo, ha sbagliato problema e di conseguenza non hanno ancora trovato la soluzione, non hanno ancora lavorato con la soluzione, che poi magari le soluzioni delle volte le porta anche il tempo, senza far nulla, Ci sta che arrivi così. Anche perché o le porta il tempo in questo caso, oppure bisogna aspettare che Ibrahimovic torna alla vacanza, eh?